O mamma, femmina, tu sei una mala, femmina, i stuocchi hai fatta chiagnare, lacrime e infamità. O mamma, femmina, tu sei una mala, femmina, i stuocchi hai fatta chiagnare, lacrime e infamità. No, 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 no In the Himalayan folk, this is the evening prayer, when the procession of the day has come to halt, for the night, they sit together and sing the prayer of the evening, how the night dawns upon the Himalayan peaks, then the valleys, then the slopes, ultimately to the thresholds, to the houses, everywhere the life stops. And prepares for the sleep. So Rakesh, but we'll sing the song now. Would you translate it? Yes, Sandhya Sauri again, Kelaas heeva. Sandhya Sauri again, Baagasu haram. He is the one who is singing. He is the one who is singing. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 con la testa d'elefante. Questa qui è una canzone che narra tutta la sua storia, da come è nato a come ha perduto la sua testa, come è diventato il dio più famoso e più auspicioso del panteo indiano. In genere si chiama colui che rimuove gli ostacoli, colui che rimuove ogni impedimento, ogni cosa imprevista che si propone. Quindi è un dio molto auspicioso che voi vedrete sopra le porte delle case, all'ingresso dei templi, in tutti i luoghi e all'inizio, perché è di buon auspicio. Questa qui è una canzone. 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 Questa è una canzone. Questa è una canzone. Questa qui è una canzone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andradevi, la regina delle montagne, colei che andrà a sposa Shiva, quindi in questa canzone si sente un po' il dolore, l'impianto dei suoi genitori che la lasciano andare via. Nella tradizione indiana la moglie va sempre a casa del marito, dei genitori del marito, della sua famiglia, quindi è un distacco della sua famiglia. Sentiamo. Now, thousands of devotees gather together and give a farewell to the goddess. It is a ritual, it is a festival, they are there and now the goddess prepares to go to her in-law's house. Grazie. 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 Voi gai, mi miara swami, adu pina, voi gai, liava swamiji, dai lia subhai, liava swamiji, dai lia subhai, Bola panche la de, bola panche la de, rana dev chudai, liava swamiji, dai lia subhai, lia subhai. Now we'll end with a famous dance song of Uttranchan. We have a dancing jana here, a very beautiful jana. The folks stand together in a circle and then they dance. This tradition is called chhapeli and chachri. We'll sing from a chachri. Or you want to listen more songs from Jesus Christ play? Some song from the Jesus Christ play? No. That will be the last one. We'll sing from the chachri. Let's sing from the chachri. We'll sing. Aha, kholi de maata, kholai bhaaani, dhar maa ke baada. Aha, kholi de maata, kholai bhaaani, dhar maa ke baada. Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Il nostro corso gratuito è stato chiamato Bedu Paku Baramaasa, non Baramaasa, Bada maasa, Bada maasa, Bada maasa, Bada maasa, the longest month, that is the month of June, not Baramaasa. Bedu Paku, Bada maasa, Bedu Paku, Bada maasa, Bada maasa, Bada maasa, Bada maasa, Bedu Paku, Bada maasa, 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti